Si apre un nuovo capitolo della tua carriera. Che cosa ti aspetti da questa nuova avventura all'Inter? No, sono molto contento, ringraziando sempre a Dio per questa bellissima opportunità di essere in una delle più grandi squadre in Europa. Per me è un onore essere qua e molto molto felice. Sei il quinto colombiano della storia di questo club, ovviamente quello che conta più presenze con la nostra maglia è Cordova. Ti chiedo se per te è stato un esempio. Sì, certo, certo. Sempre siamo molto amici e parliamo spesso. Ricordo che quando stavo vicino a raggiungere più o meno le partite che aveva fatto lui qua in Europa, io le dicevo no, ma questo non ti sorpassa nessuno, queste sono troppe partite. E poi arrivare così per me è stata una carica in più perché mi ha detto no, guarda che in due anni lo puoi fare. Grazie a Dio ho fatto tantissime partite e più che un esempio è un mio amico, parliamo spesso e sono contento di essere qui e di essere vicino anche a lui. Conosci molto bene il campionetto italiano, visto che questa sarà la tua quinta squadra italiana in carriera, come mai hai scelto di vestire la maglia dell'Inter? No, avevo tante offerte e devo dire che l'Italia è come la mia seconda casa. Poi vedendo la storia dell'Inter, la mia famiglia che veramente le piace tantissimo l'Italia, c'era la possibilità di rimanere qui in una grandissima squadra. Poi ho scelto l'Inter perché tutti sappiamo quello che è l'Inter a livello mondiale, quindi se io sto bene, la mia famiglia sta bene, l'importante è che siamo tutti contenti e c'era la possibilità di rimanere qua a casa e abbiamo fatto questa scelta e sicuramente sarà la migliore. Tecnica, velocità, dribbling ed utilità, tra tutte queste caratteristiche che ho citato, secondo te qual è il tuo vero punto di forza? L'allegria. L'allegria, cerco sempre di fare tutto con un sonriso, certamente, ma in campo mi piace far vedere quell'allegria e penso che quella è una delle mie più grandi caratteristiche. Grazie e benvenuto all'Inter. Grazie mille. Grazie a tutti.